e ti saluto con la pace del signore nostro gesù cristo dio benedetto in eterno amen gloria al signore sì sì gesù è dio non ho sbagliato lo dichiarano le sacre scritture la bibbia ora se sei un cristiano dovresti saperle queste cose ma in ogni caso se non dovessi saperlo sappi che all'interno del mio canale sul canale youtube c'è uno studio che ho fatto recentemente dove versetto per versetto ti prendo tutti i punti dove la bibbia dichiara apertamente e chiaramente che gesù è dio uguale al padre né più e nemmeno quindi dio sia benedetto in eterno amen gloria a gesù allora anche questa mattina mercoledì 14 di agosto 2024 siamo pronti per ascoltare la parola di gesù che viene rivolta ai nostri cuori in questi termini e il figlio gli disse padre ho peccato contro il cielo e contro di te non sono più degno di essere chiamato di essere chiamato tuo figlio ma il padre disse ai suoi servi presto portate qui la veste più bella e rivestitelo mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi vangelo di luca capitolo 15 versetti 21 e 22 il titolo di questo messaggio è questo non sono più degno di essere chiamato tuo figlio un uomo aveva due figli e così che inizia la magnifica storia che gesù racconta in parabola per parlarci proprio dell'amore di dio l'amore di dio padre il figlio minore aveva lasciato la casa chiedendo la sua parte di eredità mentre il padre era ancora in vita quando poi ritorna alla casa paterna in condizioni pietose suo padre non lo respinge non lo rimprovera lo stava aspettando e lo prende fra le braccia padre dice il figlio non sono più degno cosciente di aver perso la propria dignità di figlio ma il padre gli dà tre segni di questa dignità il vestito più bello segno della sua affiliazione un anello al dito segno di relazione e i calzari segno di libertà questo racconto ci riguarda tutti benché credenti ci capita di allontanarci dalla presenza di dio e quando ciò avviene non viviamo più la nostra dignità di figli di dio che cosa ci allontana da lui il desiderio di vivere la nostra vita da soli indipendentemente da lui le nostre paure i divertimenti e tutto ciò che ci distrae dall'essenziale allora come questo figlio minore ritorniamo a dio i suoi gesti di accoglienza come il padre di questo racconto saranno tante scintille di gioia nei nostri cuori pentiti dio ci invita oggi a tornare a lui a lasciarci abbracciare a ritrovare la nostra identità di figli e figlie ci accoglie con i nostri difetti con i nostri errori senza rimproverarci nulla sai perché perché dio ci ama dio ti ama e ti ama di un amore immenso quindi non frustrarti pensando che i tuoi peccati possono permettere a dio di allontanarti per sempre no non è vero perché se ti pente chiede perdono a dio e ritorni al padre tuo che è nel cielo con tutto il tuo cuore lui è già pronto con le braccia aperte appena ti vede da lontano lui corre verso di te per abbracciarti e baciarti nel collo e dirti figlio mio bentornato a casa io credo che lo spirito santo stia parlando a qualcuno in un modo particolare il signore possa convincerti affinché tu possa ritornare a quel meraviglioso calore che dio già ti aveva mostrato come padre amen ti abbraccio e ti saluto nell'amore del signore il mio abbraccio non è uguale a quello di dio il mio è virtuale quello di dio è reale è Grazie per la visione!